Zone a 30 km orari, è davvero utile andare piano? Gli autovelox potrebbero presto scomparire, a causa delle troppe multe che secondo Salvini servono solo a fare cassa. Col triciclo, da Roma sono andato a Trento, ho corso troppo, c'era vento, e mi ha arrivata molta che c***o. Siete psicopata! Io la mia auto, la guido a motore spento, solo così io vado lento, risparmio anche le gomme e il gasolio. Spoppa gli autovelox, lo dico qui, servono a far cassa, è proprio così. E se passeggio in bici e mi scappa la pipì, meglio farla addosso che correre. Cinque multe tengo nella tuta gold, io non le pagherò. Puoi andartene dal Polo Nord, se non stai bene in Italia. Ho le multe, multe nella tuta gold, non ne pagherò manco metà. Che c***o fa? Che c***o fa? Mo' paga ste multe, non romperca. Fallo adesso fa. Cinque multe tengo nella tuta gold, io non le pagherò. Se guido a trenta, il mio corpo poi si addormenta. E quindi? Mi sveglio in maniera violenta. Cioè? Guido schiaffi nella mascella. Il voce meno si paralizza! Cinque multe tengo nella tuta gold, io non le pagherò. Andare a trenta...